lavate le cosce di pollo sotto l'acqua corrente poi asciugatele mettete le cosce di pollo in una ciotola salate versate la salsa barbecue e poi la paprika amalgamate bene con le mani ora aggiungete il miele coprite con la pellicola e lasciate riposare per circa 30 minuti le coscette in una teglia rivestita da carta da forno cuocete in forno caldo a 190 gradi per circa un'ora